Ah, ma non ha fatto l'ingresso qua, entrano direttamente così, meglio. Sampdoria Lugano. Sì, quali più piccoli? 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 ma li ho presi tutti i gol dal basso i gol dal basso li ho presi tutti incredibile è facile anche qua come fanno grazie a tutti Grazie a tutti. Quando finisce questa... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.